Sì, abbiamo l'opportunità di fare qualche test sulla bici nuova, sui prodotti che usciranno il prossimo anno. È una sella con cui mi ci trovo molto bene perché ha una bella curva, una bella forma, rimane abbastanza morbida. È stato interessante vedere come cambia la spinta in base alla forma della sella. Sì, io sono molto felice a lavorare con una squadra professionale insieme, che sviluppano CPC, che credo è il certo modo da andare, perché supporta i ritori con buoni prodotti, che aiutano a aumentare la performance di più e di più divertimento sui bici. Siamo arrivati a sviluppare un tratto di sella che è quello che più è interessante per noi. Hai una libertà di movimento, ma allo stesso tempo hai la sicurezza di muoverti sulla sella, soprattutto sulle salite ripide, e di avere quella stabilità che comunque ti serve. è un lavoro aggiornale per sviluppare prodotti, ma in fine, quando vediamo le persone, le persone, i normali clienti, che ride la bicicletta e il prodotto che ti sviluppano insieme con il tuo partner, è molto bello, perché si lavorano su qualcosa, si sviluppano su qualcosa che si sviluppano in una distribuzione normale, che i normali vengono. che credo sia molto bello. E? Petr? Come va? 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 Where's Barri? Allora? Qui è? ... Grazie.